Grazie a tutti. Tante sostanze chimiche ci sono in questa roba? Ehi, per me puoi pure diventare pelata. Prendilo e andiamoci. Giu, giù. È un chimico. C'è in giro troppa eroina e troppo etere perché nessuno ne sappia niente. Di che cosa sta parlando? Sai quei barili di etere che sono esplosi sul furgone dei gelati? L'avrebbero usato per trattare l'eroina. Sì, così la possono tagliare e ne quadruplicano il valore. Già, non si può mica sbatterla nel microonde. Sai, mi sa che hai trovato una traccia. Senti, paghiamo, d'accordo? Ehi, quanto costa quello? 14 dollari e 25. Maledizione, devo aver lasciato il portafoglio da qualche parte. Mani in alto, figli di bagascia! Non ti muovete! Ehi, aspetta, non ci capisco niente, sono serio. Stassi tu! Ma insomma, cosa è? A te sempre l'agente più sciolenta. Chiudi, subito, tu è cazzo di fogna. Ascolta, siamo agenti di polizia. No, tu non sei agenti. Io non sono stupido. No, no, no. Aspetta, lascia. Io so, io ho visto i sbirri. Sì, ho fuori il distintivo, ok? Distintivi? Tu hai distintivi, figli di puttana? Ti do io distintivi. Ecco, 90 cent l'una. Io te ne vendo un paio. D'accordo, hai otto distintivi. Te l'ho detto, sta storia degli sbirri non attacca. Già, io ti scoppio. Io ti scoppio. Mi scoppi? Ma che cazzo... No, fammi un pompino che è meglio. Voi credi che io sia stupido? Io ho già ucciso un uomo. Scoppiamo dopo, va bene? Dopo scoppiamo. Ma adesso aspetta. Ma la vedi l'ansia, l'emozione che ho dipinta in faccia? Vuol dire che è una cosa seria, ok? Vuol dire che io e questo figlio di puttana non vibriamo in questo periodo. Ecco che voglio dire, ok? C'è qualcosa che mi devi dire? Sì, voglio dirti una cosa. Che fa sapere di me? Ehi, questo tizio ha una pistola, eh? Sì. E cosa volete? Sì, ce l'hai con me. Ok, d'accordo, io me ne vado. Ehi, ferma tu! No, sta fermo tu. Oh, merda. Sono fottuto. Ora spostati, metti giù la pistola e dammi un pacchetto di morbidoni alla frutta tropicale. È una scatola di mentine. No, non, 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 non